ragazze buongiorno buongiorno l'ultimo sabato dell'anno 30 dicembre 2023 l'ultimo sabato allora io sono alle prese con il letto sto cambiando le lenzuola però io pensavo di avere quattro federe rosse invece ne ho trovate solo due quindi quelle che ho messo sabato scorso giustamente le sto cambiando le sostituisco con quelle bianche non nulla di che allora qui ieri mi sono stirata un mare di roba ancora c'è l'asse da stiro montato ma mi sa che per ora lo lascio perché ora appunto mi devo dedicare alle lavatrici e niente ragazze vi volevo dire che ieri sera e stanotte lo chef ha avuto un bel febbrone almeno parliamo di 38 e mezzo e praticamente sembra che sia un virus che che per ora gira e che ha avuto mio nipote quello che è venuto a pranzo qua per santo stefano e difatti la moglie non è venuta perché stava male aveva questo virus quindi lo chef se l'è beccato e però vi devo dire che a quanto pare sembra che duri molto poco perché mio nipote mi diceva cosa di uno o due giorni un po di febbre un po di nausea e difatti ieri sera lo chef aveva un po di nausea poi la febbre ora stamattina invece era sfebrato si è fatto ha fatto la sua solita routine mattutina si è vestito è stato un poco e poi ha deciso appunto di scendere perché vi ripeto sfebrato e perché lui sostiene ma anche io che uscendo insomma ci si sente meglio anziché stare a letto stare in pigiama e io sono dello stesso avviso a meno che uno non si senta proprio male e non come dire non ce la fa ad alzarsi a camminare a guidare tutto quanto quindi lui intanto è sceso e vi devo dire che per me dico meno male perché come ognuno di noi ha la propria routine quindi a me piace la mattina che io rimango sola faccio tutto quello che devo fare senza tra virgolette nessuno tra i piedi e quindi appunto anche io speravo che lui stesse meglio prima di tutto per lui e poi appunto anche per prendere la solita routine mattutina di tutte lui in sempre in giro e io a casa a farmi le mie cose allora quindi già mi sto mi sono alzato un po' di sedie qua perché oggi devo passare il mocio in tutti i pavimenti devo fare la cucina quindi adesso mi vado a fare il letto vado a farmi il letto comincio con le lavatrici e poi oggi tra oggi e domani vediamo vorrei rifare i biscotti però li voglio fare diversi perché voglio mettere una marmellata di arance che hanno regalato allo chef per natale anche lo chef naturalmente ha ricevuto i suoi regalini ha ricevuto una sciarpa un amaro questa questo barattolo di marmellata di arance e adesso poi non mi ricordo che io gli ho regalato un pantalone insomma anche lo chef ha ricevuto giustamente i suoi regali allora è tornato lo chef e ha comprato tutto il necessario per la mia bimba perché è chiaro che se non mangia lei non mangia nessuno quindi le scatolette anche se me ne fa buttare di queste scatolette perché appena io la apro le piace perché è bella fresca già l'indomani mattina che praticamente ce n'è metà o più della metà fa un po storce il naso perché giustamente le piace il prodotto appena appena aperto poi ha preso i croccantini sempre per la mia bimba e poi ha preso due bottigliette di questo pomodoro che se non non lo conoscete non l'avete provato vi invito a provarlo perché è buonissimo questo non mi ricordo se lo vendono al deco comunque è buonissimo perché pomodoro ciliegino molto denso buono 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 poi io desideravo appunto delle sfoglie per fare per farle sia salate che dolci per giorno uno e me ne ha prese quattro di queste qua queste sono del di euro spin e poi io avevo preso già questi questo pane da tramezzino perché sempre per capodanno giorno uno e voglio fare il tronchetto di tramezzini non so se lo conoscete comunque intanto vi dico sommariamente come si fa allora si dispongono tutte le fette così una dietro l'altra si schiacciano col mattarello si condiscono con quello che preferite voi io in questo caso metterò l'insalata russa con la maionese naturalmente poi non lo so se metterò qualche foglia di lattuga comunque e poi praticamente si arrotola si ricopre tutta di maionese sopra lateralmente poi si taglia in maniera obliqua e si posiziona come se fosse un tronchetto comunque poi questo io lo faccio e ve lo faccio vedere allora io che punto sono io ho finito la cucina ero incerta se fare il piano cottura perché era praticamente pulito c'era solo qualche macchia di acqua però non ho resistito e l'ho fatto quindi la cucina l'ho fatta ho spazzato tutta la casa qui le sedie sono alzate qui maia è stanca non so di che cosa ha preso di petto questo posticino per dormire ragazze non lo lascia più tant'è che questo cuscino me lo sta ammaccando tutto perché si mette sempre qua comunque dicevo quindi ho spazzato tutta la casa ho alzato i tappeti ho alzato i tappeti qui in camera da letto ho alzato le punte del piumone ho svuotato un pochino i mobili perché voglio pulire i pavimenti e darò la spolverata stessa cosa qua ho tolto qualche cosina ho già spazzato ho steso un mare di roba e così sono pronta per passare appunto il mosso prima faccio il bagno una lavatrice si sta finendo una lavatrice si sta finendo siamo a 20 minuti e niente ragazze siamo sempre con il solito tran tran la solita routine del sabato mattina quando mi piace pulire tutta casa la giornata ragazze continua a essere non bellissima perché è molto coperta dalle nuvole stamattina coperta dalle nuvole c'è il mare che sembra un lago è un celestino chiarissimo perché rispecchia il cielo ma è fermo cioè viaggiare con la nave dovrebbe essere una delizia con questo mare assolutamente fermo e niente ragazze dico non c'è il sole però io sono tranquillamente con tutte le imposte aperte si sta bene freddo non ce n'è completamente bene Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vi stavo dicendo appunto che ho finito ora, sono quasi le tre, parlo piano perché il mio maritino si è messo a letto, perché vi ho detto appunto che stanotte ha avuto una botta di febbre, forse ora viene sta salendo di nuovo qualche lineetta. Comunque ragazze io ho finito, vi ripeto, adesso sto andando un pochino a riposarmi, noi ci vediamo come sempre domani mattina. E domani appunto sarà una giornata nella quale mi dedicherò a fare appunto l'antipasto, vediamo se posso fare i biscotti, la sfoglia, comunque tutte cose che poi mi serviranno per giorno 1. D'accordo ragazzi, allora vi saluto, vi bacio, fatemi sapere voi che cosa state facendo.